Siamo contenti. Benissimo, in bocca al lupo. Allora, la prima domanda, vediamo. Tu? Sì, dici. Io vorrei chiedere, perché fate i provocatori e poi prendete i soldi dalla Carrà? Vabbè, scusa però, rispondiamo a tutti, anche se questo qui sarà uno di quelli che c'erano in basso prima. Noi siamo andati dalla Carrà realizzando in questo modo il sogno inespresso di tantissima gente, di milioni di giovani in Italia o di gente della nostra età e quindi ci sembra di aver fatto una bellissima cosa. Cioè, voglio dire che non abbiamo assolutamente perso la nostra identità, ecco. Io volevo dire, voi fate credere di essere, insomma, diversi da tutti gli altri, però poi andate in giro in Mercedes come... Dai! Ma dai, ma Elio! Dai, ma basta, ragazzi! Ma dai, ma calma, ma cosa sta succedendo? Ma lei, ma ragazzi, ma dai, un po' di civiltà! Ragazzi, pubblicità!